qua c'è c'è un tipo di fattaro la roba si è barchata fare il video sorridete vai 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 niente video vai vai oh ehi ui appedales Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, ho preso in pieno la pietra. Single, da flat. Merda. Ehi, ha figo. Bello tecnico. Oh. Ma poi c'è matta. Ehi, ha figo. 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 Ehi. Ehi, ha figo. Ehi. 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 oh ah ah ii augunemma per la tua cazze Registrando simon grazie Eeeh, vedi? 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 Eeeh, vedi?